Si è svolta presso la sede di Siderno dell'Istituto Ipsia una lezione congresso sul significato e sull'importanza della celebrazione del giorno della memoria, il tutto in ricordo dell'Olocausto attuato nel corso della Seconda Guerra Mondiale ai danni degli ebrei e delle tante minoranze presenti all'interno del conflitto. La lezione congresso ha visto la partecipazione degli studenti, anche in collegamento, dalla sede di Locri, fondamentali gli interventi di Federica Roccisano, la moderazione del preside dell'Istituto Gaetano Pedullà, la testimonianza dell'Avvocato Antonio Riccio che ci ha parlato della storia di vita di suo zio Vincenzo Italo Romeo, rimasto purtroppo vittima durante la guerra. Significativa anche la presenza di videodocumentari sull'argomento e la presenza, con i dovuti saluti istituzionali di Giuseppe Opedisano, presidente dell'Ampisiderno, Pasquale Muscatello, vicepresidente, Mimmo Panetta e altri componenti della storica associazione. Lo splendido momento spirituale e culturale si è concluso con un forte dibattito e sentite considerazioni sull'argomento.